Nella giornata di lunedì 12 ottobre sono scesi in campo l'una contro l'altra la listazza e la lista della spesa entrambi in competizione per il posto di rappresentanti istituto dopo un video infinito in full hd di Giorgio Morelli due assemblee hashtag vari e una rizza verbale tra Andrea Borello e Lorenzo Ritorto gli ai tanti candidati hanno deciso di partecipare a un'intervista doppia stile Iene questo è il risultato perché avete scelto questo nome per la vostra lista? perché ci piace molto il motto che abbiamo scelto così da poter includere i vari ingredienti come i vari punti della nostra lista perché le tazze degli omini di Lego sono molto affascinanti quando è finita la prima guerra mondiale? nel 1918 nel 1918 prima cosa che farai se farai a letto buona festa ringraziare i miei compagni per l'apporto che hanno dato qual è il punto debole del tuo avversario? il punto debole di Toccardia qual è il punto debole di buona ma è brutto la mia? non lo so non lo so senza essere capito tanti dicono che sia un po' così allora secondo me il punto debole può essere che nelle cose che fa si è preso un po' troppi meriti dicono che non sia la persona più affidabile del mondo poi a me sta simpatico per carità perché ti vuoi candidare? tutto sommato la lista e i progetti di Lara mi sono sembrati convincenti anche abbastanza concreti noi non puntiamo su cose irrealizzabili o su false promesse ma su qualcosa di solito e che possa anche se vogliamo durare un tempo è un bel collegamento tra biennio e triennio pensi di avere abbastanza esperienza per fare il rappresentante? ma tutto sommato sì perché comunque sono ben 4 anni quasi 5 che sono qui e perché tutto sommato qualcosa in questi anni ho imparato non c'è una vera e propria esperienza per questo conta molto l'impegno se ho una intenzione di impegnarsi su questa cosa sicuramente farò una cosa bella e che riuscirà a coinvolgere tutti ed essere apprezzato ed essere apprezzato pensate davvero di poter migliorare il Cavour? tutto sommato sì, nel mio piccolo sì almeno sì, penso di poter migliorare il Cavour e renderlo una scuola migliore e molto nuova il punto debole del tuo avversario? mi mantengo per parte con tutto il rispetto secondo me il suo problema è che non è molto conosciuta all'interno della scuola cosa ne pensi della buona scuola di Renzi? no dai ragazzi ma che cazzo posso avere punti sotto mano? non ne so tanto globalmente diciamo che la vedo più in modo negativo che positivo una buona scuola per poterla manifestare anche qualcosa di un po' incomprensibile perché ogni due per tre cambia i vari decreti quindi non si capisce niente in quale epoca storica vorresti vivere? penso negli anni 50 nel 1942 però tanto tu donna quindi il militare non l'avrei fatto negli anni 70 perché era tutto un po' più libero, più tranquillo descriviti con tre superlativi affettuosissima super convintissima affidabilissima però un pochino superbo da dire altissima purissimo levissimo la prima cosa che farai è se verrai a letto bene staccare uno dei manifesti e portarmelo a casa in quale personaggio storico ti identifichi? il canguro rosso è diventato l'emblema del deserto australiano o Emeline Pankhurst che è molto figo e secondo me nessuno conosce se no è so bene cosa ne pensi del fatto che Morelli si sia candidato sebbene si trovi in Australia? è stato molto audace secondo me è stato coraggioso però non so quanto possa essere presente soprattutto arrivando a metà anno che cosa risponde Giorgio Morelli? e qui possiamo vedere l'esemplare di masco australiano mentre si avvicina alla femmina in difesa in che anno è caduto il muro di Berlino? in 1939 il punto debole del tuo avversario? il fatto che sia in Australia secondo me